La cosa più bella che possa capitare è girare per gli Stadi d'Italia con Giuseppe Altafini. Ogni spogliatoio, ogni porta è una storia che quasi sempre finisce con la descrizione di uno dei suoi gol. Perché lui ha segnato in tutti i modi, in tutte le porte. Per 216 volte in Serie A, per 14 volte in una sola edizione di Coppa Campioni. Sottoporta, era il più forte. 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 E si concede anche il poker. Ci vogliono forza e caparbietà per far saltare mezza difesa e gonfiare la rete. l'ennesima prudenza di José Altafini. Sottoporta, è il più forte. sta bloccato, è il più forte. Milan e Benfica sono sull'uno a uno. Per conquistare la sua prima Coppa Campioni, il Milan ha bisogno della classe e della determinazione di José Altafini. Altafini ha servito. Allafini ha servito. Allafini ha servito.